Ehi, hai dimenticato il resto? Mettimi lì, per favore. Ok. Ragazzi, dimenticavo di dirvi che oggi ci sarà una nuova ragazza, una nuova compagna di classe. Ma è una bella gnocca? Iuri, vai alla ricerca delle solite note? Prof, se l'ho chiesto. Ah, sei di Roma allora? Ah, io ho qualche amichetta ai Parioli. Mi piacevano i miei muscoli, mi hanno detto che sembro un gladiatore. Avevano ragione. Sembrano, ma non le sono. La gente deve capire che la defibrillazione è un modo per salvare la vita. Allora, nel caso in cui una persona perda conoscenza improvvisamente, è importante attivarsi immediatamente. Allora, adesso vi faccio vedere tutta la tecnica. Ok, e dopo proverete voi. Non pensavamo che ci nascondessi delle cose. Non pensavamo che ci nascondessi delle cose. Grazie. Grazie a tutti